Accolta l'attenuante dei disturbi mentali per Andrea Cardinale, il palermitano di 22 anni, accusato dell'omicidio dei fidanzati Nino Calabro e Francesca Di Dio, entrambi della provincia di Messina, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagna Reale. Il 21 dicembre scorso sono stati ritrovati morti in un appartamento di Tornaby Road, nel nord-est dell'Inghilterra. Cardinale è comparso in videoconferenza dal carcere e si è dichiarato colpevole di omicidio colposo. La difesa ha portato avanti la tesi dell'omicidio non intenzionale, puntando sui disturbi psichici del ragazzo. Andrea Cardinale si è dichiarato non colpevole di omicidio, ma colpevole di omicidio colposo. Il sistema giudiziario inglese dunque ha accolto la versione dell'aggressore dei due fidanzati e il giudice si sarebbe detto pienamente d'accordo in relazione a un omicidio legato ai disturbi psichiatrici del giovane palermitano. Grazie per la visione!